Sì, signor Rollins, mi chiamo Misty, sono il vostro nurse oggi. Come sei? Fine, come sei? Sono bene. Sono qui per aiutarti a sottare a sottotitoli del bambino. Ok. Posizionatevi di fronte al paziente all'altezza del bacino. Formate con i piedi un'ampia base di appoggio per aumentare la stabilità e l'equilibrio. Mettete il braccio più vicino alla testa del letto, sotto le spalle del paziente, sostenendogli così la testa e il collo. Quindi mettete l'altro braccio sulla coscia del paziente. Chiedete al paziente di collaborare spingendo sul letto con la mano del braccio superiore. Spostate il vostro peso dal piede anteriore a quello posteriore. Tale spostamento del peso vi aiuta a sopportare lo sforzo e a ottenere un movimento fluido. Se necessario, abbassate il letto fino a che i piedi del paziente poggino sul pavimento. Aiutate il paziente ad avanzare con le natiche in modo che i piedi poggiano interamente sul pavimento. Chiedete al paziente se ha bisogno di sostegno e se è comodo in questa posizione. Se necessario, portate al paziente un tavolino per l'attività successiva.